La moneta del futuro dei giovani è l'esperienza. Le prime cinque società come capitalizzazione sono Google, sono Amazon, sono Facebook, sono società con 10, 15, 30 dipendenti, 30 amministratori e poi hanno un miliardo di lavoratori che lavorano per loro. Sono società che mettono persone a condividere esperienze. La moneta del futuro dei giovani è l'esperienza. Rivoluzioniamoci. Rivoluzioniamoci.